Assessore, c'è la massima attenzione su un comparto che è quello dell'agricoltura e tutti sappiamo cosa rappresenta l'agricoltura per i canicattinesi che sta vivendo comunque questo settore un periodo di crisi e soprattutto in quello che è l'aspetto più importante, l'Uva Italia. Lei però non demorde, ha partecipato a diversi incontri e ieri a Palermo si è parlato con l'assessore regionale Bandiera proprio di questa problematica. Esatto, io ieri dopo l'assemblea che c'è stata dei sindaci della zona di Mazzarrone e dell'IGP locale, delle associazioni di categoria della nostra IGP e della nostra amministrazione cui ho avuto l'onore di rappresentare in quella riunione, è scaturito un numero di richieste da fare subito e immediatamente, diciamo un paio immediate per dare respiro dopo questi due anni di crisi, l'anno scorso ricordo il problema cracking, quest'anno i problemi di mercato e un problema sostanzialmente di prezzo. E di questi giorni, quest'alluvione, queste piogge hanno raggiunto oltre 20 mm o 200 mm in due giorni, sta mettendo in ginocchio, ha messo totalmente in ginocchio il settore. Avevamo chiesto già all'assessore Bandiera un incontro, ci siamo stati ieri, lo ringrazio per la grande disponibilità che ha dato, ma chiaramente è stato molto esplicito perché la persona seria qual è non poteva fare diversamente, ci ha detto che purtroppo fondi la regione non ne ha in tal senso, quindi può intervenire relativamente. Nonostante questo ci siamo impegnati a risolvere le cose, ripeto, i due punti, quelli dell'immediato, perché poi possiamo parlare di grande distribuzione, di intervenire sulla grande distribuzione, di la ricerca di nuovi mercati, per esempio loro ieri citavano un incontro con una delegazione cinese per quanto riguarda le arance e potremmo anche inserire il discorso dell'Uvitalia, perché è una di quelle economie che va a 300 all'ora, l'economia cinese, quindi potremmo pensare anche di esportare in Cina il nostro prodotto, che sicuramente è ben apprezzato da chi lo conosce. Quindi stavo dicendo le cose che si faranno nell'immediato. L'assessore si è impegnato a contattare immediatamente, ieri pomeriggio stesso, a suo dire, doveva contattare il presidente di Abbi Sicilia, per vedere di far ottenere ai nostri agricoltori una moratoria sui mutui, cioè consentire lo spostamento magari alla fine del... queste due errate spostarle alla fine, riguardando il periodo 2018-2019, e in più l'azzeramento possibilmente degli oneri sociali, per quanto riguarda tutti i contributi IMS e quant'altro. Chiaramente su questo l'assessore è stato chiaro, non dipende da lui, ma dal governo nazionale, ha già preso un appuntamento con l'assessore all'agricoltura, dove parteciperà forse anche una delegazione dei sindaci del comparto dei comuni interessati, dove si chiederà questa sospensione degli oneri sociali. e ci siamo impegnati, noi come Comune, i consorsi e i sindacati, a stilare un elenco, cioè dobbiamo dimostrare che c'è stata questa calamità, e quindi probabilmente con una delibera di giunta o di consiglio comunale, dichiareremo, si farà una declaratoria, ecco in termini poveri, dove si associerà alla crisi di mercato, quindi le due cose sono sine qua non per ottenere questi sgravi nei limiti del possibile. Ripeto, l'impegno di stare a fianco dei nostri agricoltori c'è, ci sarà un ulteriore incontro la prossima settimana proprio per quanto riguarda i mutui, perché mi pare che il 30 di novembre scadono le cambiali agrarie, quindi cercheremo in tutti i modi di stare vicino ai nostri agricoltori. E' chiaro che i comuni, i consorsi, la regione stessa, perché l'assessore è stato chiaro, soldi non ce ne sono, e diceva giustamente, una volta era semplice, il Banco di Sicilia era regionale, era una cassa regionale, ma era di proprietà della regione, bastava fare una legge, un'assemblea, e automaticamente si spostavano, si rinviavano in mutuo e tutto. Oggi è molto più difficile, però credo che il Presidente dell'Abi Sicilia, anche coinvolgendo il Presidente nazionale dell'Abi, possa fare qualcosa per le nostre agricolture, e quindi dare una mano, almeno dare il respiro in questi due anni. Altre cose, poi, ripeto, grande distribuzione, aumentare il prezzo di conferimento nelle cantine sociali, che non è semplice, perché siamo sempre lì, non ci sono i soldi, se c'erano i soldi, la regione finanziava X, però noi abbiamo fatto notare, con una certa rabbia, non capiamo perché in Sicilia, o quando si parla di agricoltura, che io ho definito la nostra industria, non è un'industria, ma per noi l'industria dell'agricoltura non abbiamo altro. Se funziona l'agricoltura, lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, funziona il commercio, funziona l'indotto, funziona un po' tutto. Quando in crisi l'agricoltura ne piangono le conseguenze tutti i cittadini, in generale, la maggior parte, ne piangono le conseguenze. Quindi noi faremo questa battaglia, ci siamo impegnati a fare questa battaglia, la continueremo, sperando di ottenere qualcosa. Infatti, dei molti punti scaturiti nella riunione, nella lettera che abbiamo fatto, si parla di spingere i consumi di prodotto italiano e sostenere il collocamento del nostro prodotto all'interno della grande distribuzione, di remunerare il giusto prezzo del prodotto nelle cantine, ma queste non sono cose che possiamo fare domani mattina. Anche il discorso della grande distribuzione ormai è finito, perché la campagna è finita, la campagna agraria. Però dobbiamo pensarci in tempo per l'anno prossimo. Il resto, noi quello che possiamo fare, se non promuovere il prodotto, che è un'eccellenza, lo sappiamo, lo sanno tutti, è che purtroppo negli ultimi anni va sempre indietro. L'unica cosa che noi possiamo fare come Comune è stare a fianco degli agricoltori. Oggi c'è una manifestazione a Palermo, io purtroppo non l'ho potuto presenziare per altri motivi, ci sono già stato ieri, c'è una grande manifestazione indetta, mi pare, da Coldiretti, e mi auguro che anche questa, spero che ci sia andando una presenza massiccia dei nostri agricoltori di Canicattì. Sicuramente ci saranno quelli di Mazzarone, sicuramente ci saranno, perché comprende molte anni, non soltanto per l'Uvitalia. Però, noi abbiamo 44 mila ettari di terreno coltivato a una tavola, sarebbe un peccato non far sentire la propria voce.